Ed è giunto il giorno del derby capitolino Lazio-Roma, ventitresima giornata di Serie A, domenica 9 febbraio 2014, si gioca alle ore 15 di fronte a 60.000 spettatori previsti, 12 gradi e pioggia. Vediamo la classifica delle due squadre, la Roma è al secondo posto a 44 punti, dietro all'Iuventus a 52, la Lazio è a 24 punti. E vediamo insieme la formazione della Lazio, che gioca in casa, schierata da Reia, Beriscia, Importa, Dias, Bia, Varadu, Cavanda, Ledesma, Gonzale, Ludic, Candreva, Keita e Close. La Roma risponde con De Santis tra i pali, Maicon, Kassan, Benatia, Torosidis, De Rossi, Strootman, Nainggolan, Florenzi, Totti e Gervinio. E vediamo le quote scommesse, la vittoria della Lazio è data a 3,70, 3,80, 3,75, la vittoria della Roma a 2, 1,95, 1,95, il pareggio 3,30, 3,40, 3,50, rispettivamente da SNAI, BetClick e BWin. La Lazio viene dalla vittoria a Verona, dalla sconfitta a Napoli e dal pareggio in casa con la Juventus per 1 a 1. La Roma è in reduce, dalla vittoria in casa con il Napoli per 3 a 2, dal pareggio in casa con il Parma 0 a 0 e dalla vittoria in trasferta a Verona per 3 a 1.